E' decisamente il più scemo di tutti! È finita, Dark! Dopotutto sembra che non valga poi così tanto la pena di diventare un guardiano! Ho sbagliato! Ho sbagliato tutto! Ho completamente... Devo attivare quel sigillo prima che Aaron rimanga ferito! Ci sono così tante rocce! Aspetta, io sono un roccioso! Conosco le rocce! Alcune cadono a sinistra e altre a destra! Certo! Le rocce sono mie amiche! Così è facile! C'è solamente una cosa... Io odio... Volare! Sì! Guarda! Il sigillo! L'abbiamo trovato! L'ho trovato prima io! Come vuoi, ma adesso lascia fare a me! Cosa? No! Perché? Perché se l'attivazione del sigillo non sarà eseguita dal guardiano corretto, si attiverà il sistema di difesa, ricordi? Quindi, per favore, resta qui, d'accordo? Ok, diciamo... E se lo attivassimo contemporaneamente? Cosa? No! Ma perché l'hai fatto? Cosa? No! 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 Ma perché abbiamo tutti i sigilli, dove dobbiamo andare? Il bracciale dice di ritornare a Roccamacigno, da quella parte! Sicuro? Credo sia meglio andare da quella parte! Scherzo! Sto scherzando! Ma ho ragione! Gormiti! 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 Raggiungibili! Chi mi fermerà? The legend is back! The legend is back! Gormiti! Gormiti! Gormiti!